È Natale, Derek. Noi adoriamo il Natale. Beh, lo adoravamo. Sì. A Natale viene voglia di stare con chi ami. Già. Non lo dico per ferirti. O perché ti voglio lasciare, perché non è così. Meredith non è stata un'avventura. E neanche una vendetta. Mi sono innamorato di lei. E questo non svanisce perché ho deciso di stare con te.